10 secondi all'inserimento 5 secondi all'inserimento postaggio individuato 10 secondi all'inserimento 10 secondi all'inserimento 10 secondi all'inserimento 10 secondi all'inserimento carica pronta 10 secondi all'inserimento 10 secondi all'inserimento un operatore alleato rimatto 10 secondi all'inserimento mancano 15 secondi all'inserimento 10 secondi all'inserimento 10 secondi all'inserimento 10 secondi all'inserimento portifico il muro portifico il muro portifico il muro Piazzo il tappeto Piazzo il tappeto Piazzo il filo spinato Resta solo un operatore alleato Missione fallita